Spunta un nuovo testamento del Cavaliere Silvio Berlusconi, deceduto alcuni mesi or sono. Shock nella famiglia Berlusconi. Buona parte del testamento del Cavaliere andrebbe ad un tal Marco Dinunzio, un imprenditore piemontese che si dichiara tra gli eredi di Silvio Berlusconi. Questo alla stregua di un testamento sconosciuto, sottoscritto in Colombia il 21 settembre 2021, ed è stato in questi giorni depositato e pubblicato dal 55enne Marco Dinunzio, presso uno studio notarile di Napoli. Secondo l'avvocato Eric Grimaldi che assiste Dinunzio, questo testamento è divenuto valido a tutti gli effetti e dovrà essere ufficialmente considerato e inserito obbligatoriamente nella pratica successoria di Silvio Berlusconi. Ma chi è questo Dinunzio? Sostiene di essere stato amico di Berlusconi. Sappiamo inoltre che nel 2013 si candidò alla presidenza della regione Lombardia con la lista Movimento Bunga Bunga, ma questa lista non venne autorizzata per irregolarità delle firme. La famiglia Berlusconi è sotto shock. Questo testamento devolve al Dinunzio, tra l'altro, il 2% delle azioni Fininvest, oltre a tutte le azioni della società proprietaria delle ville ad Antigua, ed oltre alla nave principessa Vai Via e anche altre imbarcazioni. Il Dinunzio ha anche formalmente diffidato i cinque figli di Berlusconi, e gli altri eredi, chiedendo l'immediata immissione nel possesso dei beni. Secondo l'avvocato Grimaldi, il testamento speciale era stato stipulato il 21 settembre 2021 nello studio del notaio Jiménez Nagera Margarita Rosa, a Barrio Espinal, in Colombia, e vidimato dalla Cancelleria del Ministero degli Esteri colombiano. Ora che il documento notarile è diventato valido, secondo l'avvocato Grimaldi, i legati testamentari saranno, di certo, sottoposti al vaglio della famiglia del Cavaliere, del notario Roveda e dello stesso comitato direttivo della società Fininvest. Questa notizia è caduta come un fulmine a ciel sereno per la famiglia Berlusconi, che già assaporava la gioia di pagare niente o poco di tasse per questa successione. Precisiamo che il testamento non è olografo. Cioè è scritto a macchina e solo firmato da Silvio Berlusconi. Tutti adesso si chiedono cosa faranno gli eredi di Berlusconi. Accetteranno questo presunto testamento o faranno causa, punto di domanda. Se entreranno in causa non potranno ancora entrare in possesso dei beni ereditati, e le cause, si sa durano molti anni, in tutti i tre gradi del giudizio. Se verranno ad accordo tutto si risolverà. Insomma probabilmente ne vedremo delle belle. Nel frattempo controlliamo anche noi tra le nostre carte se casomai anche noi abbiamo un testamento di Silvio Berlusconi da qualche parte.